fa paura il problema è che il diverso e così è sempre stato ultimamente considerato l'omosessuale come è stato considerato anche quello che si veste o si pettina in modo diverso da noi o il malato di mente per esempio, il diverso è l'altro, è l'alieno è colui che ti mette in una condizione dove tu ti senti piccolo piccolo rispetto a lui quindi non riesce ad affrontarlo perché non riesce a entrare nel suo modus vivendi nella sua psiche, in quella che è la sua vita perché non accogli, non riesce ad accogliere allora a quel punto tu hai paura, tu hai paura dell'altro, tu hai paura del diverso per esempio non so se hai visto o se i nostri ascoltatori hanno visto è un film recente che è Io l'altro con Raul Bova e Giovanni Martorano che è un film scritto da un tunisino dove si parla della diversità dove si parla di Io l'altro perché dentro di noi in questo caso il diverso era un tunisino che apparentemente via radio Raul Bova sente che sono su una barca e sono due pescatori amicissimi che hanno lottato per riuscire a conquistarsi e a comprare questa barca che giocano e scherzano insieme e poi l'unico strumento di comunicazione è la radio lui sente per radio che stanno cercando un tunisino che è un terrorista che potrebbe essere lui e quindi la situazione si capovolge allora dall'amicizia diventa paura, poi diventa terrore e poi alla fine andate a vedere il fisico però in questo per dire che l'altro ce l'abbiamo dentro di noi e noi di quest'altro abbiamo paura perché è il diverso da noi perché è quello che noi non accettiamo quella parte di noi che non accettiamo e molto spesso non accettiamo perché culturalmente non ci hanno insegnato ad accettarla però secondo me questo riguarda giustamente il tuo punto di vista proprio la fobia del singolo cioè la fobia dell'istituzione religiosa secondo me è più legata a questioni di potere e di conservazione del potere è un pochino a monte questo io l'avevo detto prima quindi dal punto di vista culturale il discorso della chiesa è quello pubblicamente dal punto di vista poi del singolo è la paura molto spesso cosa succede? ci si integra in una comunità come può essere quella religiosa perché in quel modo si è protetti si è protetti dall'altro da chi ti fa paura e quindi è quello che è diverso da te quando una chiesa parla di questione morale effettivamente si riferisce tanto alla parte sessuale effettivamente perché io non ho mai visto la chiesa scagliarsi contro uno dei dieci commentamenti è non fornicare però c'è però uno dei commentamenti è anche non rubare ma è più semplice scagliarsi contro il sesso che è il fondamento comunque anche delle relazioni no perché io non ho mai visto la chiesa alzare un solo dito o spendere una sola parola contro situazioni di gravi corruzioni concussioni oppure di situazioni è il peccato più semplice da imbrigliare c'è anche un uccidere una chiesa però non ho mai visto la chiesa a parte in maniera marginale scagliarsi contro le guerre contro alcune situazioni piuttosto pure lo stesso paradosso di Enrico De Pedis che ha ammazzato più di 80 persone il boss della banda armadiliana tra l'altro con Pippo Calotto tra l'altro la mafia siciliana che tra l'altro è stato proprio pensato è arrestato proprio nella via dove attualmente è la sede della radio incredibile per l'85 e praticamente si parla addirittura era custodito il suo feltro la sua salma in una chiesa Santa Polinare perciò capite? cioè questo è il discorso comunque invece dato che siamo quasi in chiusura io voglio chiedere invece a Carolina adesso accandoniamo il discorso della chiesa perché qui purtroppo bisognerebbe fare fiumi fiumi di puntate perché proprio puntate a fiumi invece parliamo adesso nuovamente del proprio del libro quali sono le cose ci vuoi raccontare delle cose che ci sono rimaste più impresse perché giustamente tu hai messo tutto quanto le cose più interessanti le hai messe nel libro però tra le cose interessanti che hai utilizzato per tra l'altro mi diciamo mi incuriosisce anche la copertina del libro perché intanzitutto è stata fatta questa copertina? perché? non è stata scelta dalla casa editrice in realtà sono due gambe di una ragazza lievemente scoperte con delle calzamaglie un po' scese e due scarpe da ginnastica senza lacci non ha un messaggio? no però mi sembrava carino quando me l'hanno mostrata sono stata molto contenta perché mi sembrava che un po' unisse da una parte un aspetto un po' sexy però dall'altra anche un aspetto scansonato allegro queste scarpe da ginnastica aperte insomma che parlano di comodità di tranquillità di gioco ci rivedi in questa copertina? sì anzi molte persone credono che si tratti delle mie gambe invece torniamo alla domanda di prima qual è la cosa tra le varie cose interessanti che hai messo insieme poi per poter scrivere e poi pubblicare questo libro c'è una cosa che ti è rimasta proprio più impressa delle altre? nello scrivere? no delle risposte dei tuoi diciamo dei tuoi interlocutori ecco sul blog ma guarda sì iniziano è uscito da un paio di mesi iniziano a arrivarmi delle email di persone che l'hanno letto finalmente e una delle ultime che veramente a parte le email però delle cose che hai pubblicato dicevo non ho capito allora la domanda perdonami tu diciamo hai raccolto un po' quelle che sono le impressioni anche del blog in tutti questi quattro anni in cui hai gestito questo blog c'è qualcosa che ti ha colpito più delle altre? non ho capito se da parte dei lettori da parte dei lettori tra le cose tra le cose che ti hanno scritto lettori beh devo dire un po' di tutto è talmente vasta la materia che ho un po' di difficoltà a fare una selezione istantanea però mi colpisce molto ecco forse la cosa più importante è l'aver raccolto testimonianza di moltissime persone in Italia che la vivono come me e quindi la gioia di non aver inventato nulla e di aver riscontrato una sensibilità di questo genere in moltissimi uomini e donne per cui quando magari appunto sono invitata a qualche trasmissione o durante un'intervista mi si dice soprattutto dopo il tour che dicevi in 30 città italiane parliamo di questo tour anche questo come ho visto quest'Italia cioè io mi arrabbio quando si parla dell'Italia bigotta perché ho scoperto grazie a quattro anni di blog grazie a tutti gli incontri di persone faccia a faccia che ho avuto da Milano a Napoli in Sicilia in Sardegna ovunque veramente in Italia ho incontrato persone che hanno una capacità di vivere il sesso con la gioia e la naturalezza che merita ma tantissime che mi scrivono tutti i giorni email in cui magari mi dicono non brava mi ha insegnato qualcosa ma brava perché hai detto delle cose col tuo visino da ragazzina hai finalmente ridato una dignità che il sesso merita e che purtroppo fa fatica a trovare nei media e nella nostra società quindi questa è una cosa che mi è successa spesso che mi abbiano scritto questo cioè io mi sento pornoromantico non sapevo che esistesse né questo termine né questo blog e sono due giorni che lo leggo e che mi ritrovo in quello che scrivi questa è la cosa che ti ha colpito di più guarda io poi in passato negli ultimi anni no però in passato ho intervistato più volte Tito Bras proprio per articoli insomma di carta stampata e in quello che diceva lui parlando del fatto della chiesa mortificava il sesso le sfaccettature diciamo dell'Italia provinciale poi adesso parlavi dell'Italia bigotta che poi tutto sommato non hai scoperto un po' diversa da quello che pensavi esatto io rivedo molto di quello che mi ha detto Bras nelle interviste in quello che tu stai dicendo in quello che tu stai esprimendo oggi c'è qualcuno che ti ha accomunato un po' in qualche modo a Bras mai? neanche nel pensiero non è ancora successo no allora è la prima volta allora sono lì in questo caso ho fatto una prima ho aperto ho stato una porta diciamo che era chiusa e a questo punto un'altra cosa che volevo chiederti invece tu Loredana? sì penso anch'io così che te l'ho detto prima che c'è una doppia una doppia facciata la gente in realtà non è bigotta in realtà nel privato nel pensiero si sta aprendo tantissimo però pubblicamente la consapevolezza e il parlarne il dichiararlo non c'è non c'è bisogno che uno parli del proprio privato però neanche che faccia finta di essere quello che non è sì ecco questo perché purtroppo quando si parla di erotismo anche sui giornali e le trasmissioni o viene presentato il lato oscuro il lato brutto il crimine oppure si mette in ridicolo non c'è una via di mezzo una sana e tranquilla via di mezzo e questo è il problema fondamentale però la gente è diversa non faccio la domanda poi a Irene perché ho detto che l'otismo è una cosa sana chiaramente se non si poi trascende chiaramente sì